Un'iniziativa molto importante, interessante, il nome stesso lo dice, è sicuramente la cosa fondamentale. I laboratori dal basso, se ben sfruttati, possono rappresentare un elemento di formazione potentissimo, un'esplosione di idee, dà la possibilità concretamente di allargare gli orizzonti al di fuori del mondo pugliese. Un'opportunità di crescita. Magari ci fossero iniziative come queste in giro per l'Italia in modo più frequente. Grazie. 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 Grazie.